Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale e benvenuti nel mio video. Un bacione grossissimo da me e da Simona. Allora ragazzi, oggi vi mostro uno svuoto alla spesa che abbiamo fatto sia al paghi poco e sia all'Eurostin. Allora, come voi sapete, io al paghi poco prendo la carne, mi ci trovo abbastanza bene ed è buonissima. Siccome domani dobbiamo fare una bella rostita, una bella grigliata, io vi mostro cosa ho contato. Allora, ho preso due vaschette di salsiccia, una pagata 4,81 euro e una pagata 3,98 euro. Poi abbiamo preso la pancetta, questa pancetta qua noi con queste cipolle, le ho prese all'Eurostin, noi faremo i mangi e bevi, le restiamo e vengono buonissime, ve lo assicuro. Perciò chi non le ha mai provate, li provi e vi faccio vedere che vengono buonissime. Si arrotrano con la cipolla, si arrostiscono e vengono ultra buoni. Poi ho preso le fettine di pollo per i bambini che non mangiano la carne, non mangiano cose con limone e salate. Poi ho preso la carne, mi ho preso tre vaschette. E poi ho preso, perché chi fa la grigliata non può mancare, non fare le alette di pollo, vengono ultra buoni. E con la carne abbiamo finita. E con la carne abbiamo finita che poi la andiamo a posare. Poi ho preso la pasta preferita da... Simona, che non era questa, ma comunque... No, era questa! Io pensavo che era questa, comunque... Ma vabbè, la stessa mi piace. La stessa mi piace, ok. E mi ho preso uno, due, tre, quattro pacchi. Poi abbiamo preso i pomodolini, questo qua l'abbiamo preso al pagli poco. Che era loro? Una, come si dice qua, una busta di latte... No, non è latte, è liso vegetale, consigliato dall'anieno di cernista. Ma è latte, va bene. Una gottina di aglio. E magro, perché me le mangio tutte io. Noci. Le noci sbisciate. Sbisciate, cipolle. Bicchieri di plastica. Lattuga. Lattugina. Petti e biscottati per la colazione integrale. E poi, un pezzo, un pezzo forte. Il Kinder e il bruscire Kinder. Il bruscire Kinder. Due bottiglie di Coca-Cola. Poi ho preso... Questo qua che mi sono molto piaciuti, l'ho preso al Arler's King. E questo qua che veramente, questo mestolo che mi piace da morire, anche poi per condire. E questo qua, prego, per fischiare sia lo gengelo che il braio. Questa è la relazione che ci è arrivata stamattina. E poi, aspetti, che quello non ho finito. Ho preso pure... Aspetti signora, non ho finito. Una bottiglia di te verde. Poi atti. E la pasta Poi atti. Questa ti piace, Simona? Allora, che ti ha fastidio. Ok. E tutti i piedi di pasta. Questa è detta? Sì. Comunque, con la spesa abbiamo finito. E ragazzi, vi auguro un bel weekend. Alza il mio compagno, perché le cose arrivano a poco a poco. Allora, torno al diomare. E questa qua l'abbiamo presa alla conta, insieme alle brioci, che per ora ce l'ho persa. Un euro e 65. Poi ho preso questa pisana, che per ora ne faccio molto uso. E per la consiglio. È la maista limoncella. Ed è abbastanza buona. E le uova. Diciamo che mi dica delle uova. Comunque, ragazzi, vi lascio il mio video. Spero che questo video vi facciate la motivazione. Soprattutto apprezzate i miei consigli. E ci vediamo al prossimo video di Brizzi. Un bacio costissimo.